Allora, bella sgana, wey! Ragazzi, devo urlare perché se no non mi sentite. Volevo provare questo green screen, visto che è blu. Forse voi non lo vedete neanche, che è blu, però va bene lo stesso. Volevo provarlo così magari facevo qualche cazzo di video con anche questo, se si poteva. Se no fa lo stesso, non è che mi sparo. Non è quello il problema. Eh, boh, ditemi voi se worka bene, che se no lo brucio, anche se non è mio. Worki bene, eh? Sta lavorando, eh? Sta facendo il suo lavoro, eh? Bravo, bravo, bravo. Come vi dico ragazzi, lo faccio solo per provare a vedere se questo blue screen funziona, che magari lo userei in qualche cazzo di video. Se non funziona, me ne faccio una ragione e lo brucio, anche perché io ho tutta la stanza verde, colorata di verde. Il problema è che questo verde tende un po' più al bianco che al verde scuro. Di conseguenza, la mia faccia è bianca e allora quando monto il video, dopo, bianco su bianco, sparisce tutto. Quindi sparisco anche io, purtroppo. Quindi ragazzi, ditemi voi, giudicato e voi, se funziona, se worka questo grandissimo telo blu. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Vai là.